mamma vado a fare una passeggiata ok torna per pranzo no 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 jajajaja 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 jajaja jajajaja cosa hai dato? un gattino ti salvo io salta dentro oh stai congelando ti scaldo io mamma sono a casa lavati le mani e siediti a mangiare entra qui ok fermo dove stai andando aspetta fermati micetto dove sei? dove si nasconde? evy perché hai fatto cadere il piatto? è stato un incidente oh hai finito che velocità posso averne ancora per piacere? grazie mamma grazie a tutti micetto dove stai? dove sei? sei andato nei vestiti della mamma esci subito di lì o si arrabbierà sei un birbantello evy arriva la mamma sono un po' stanca ora mi sa che mi stendo un po' cos'è questo? cos'è questo? ah mamma scendi è solo un gatto cosa? e da dove arriva? l'ha trovato fuori che carino andiamo a dargli da mangiare eeeh ancora? ancora? ah mamma posso avere qualcosa da mangiare anch'io? eeeh eeeh hehehe